Qual è il segreto che Buckingham Palace si ostina a nascondere? Potrebbe sembrare il titolo di un romanzo giallo, ma è la domanda che oggi ci portiamo dietro, attraverso le imponenti porte di Buckingham Palace. Nel cuore della monarchia britannica si cela un mistero che riguarda niente meno che la salute di Carlo III. Un nuovo piano di successione, parole che suonano come un presagio. Cosa sta accadendo davvero dietro le quinte regali? Se siete pronti a tuffarvi in questo intrigante viaggio, lasciate un like, iscrivetevi al canale e seguiteci fino alla fine per scoprire i segreti più custoditi della corona. Non dimenticate di attivare la campanella per non perdere nessun aggiornamento. Nel cuore pulsante di Londra, tra le mura storiche di Buckingham Palace, un vento di cambiamento sta iniziando a soffiare, portando con sé sussurri di un nuovo piano di successione. Ma perché ora? È la domanda che echeggia nelle menti di tutti, mentre Carlo III mantiene un'immagine pubblica di forza e dedizione nonostante le sfide personali. La sua recente battaglia contro il cancro ha sollevato più di un sopracciglio, lasciando spazio a congetture e teorie sul vero stato di salute del sovrano. In questo intricato scenario emerge una figura chiave, Nicholas Whitchell, un nome che una volta riecheggiava con rispetto nei corridoi del palazzo, ora sembra evocare sentimenti contrastanti. Una volta stretto confidente, la sua presunta caduta in disgrazia solleva dubbi non solo sulle informazioni che divulga ma anche sulle motivazioni dietro le sue parole. Le notizie di un nuovo piano di successione trapelate da Whitchell aprono un vaso di Pandora di speculazioni. È una mossa strategica per preparare il popolo a un'imminente transizione di potere. O c'è qualcosa di più sinistro dietro queste rivelazioni? Vuoi scoprire cosa si cela dietro le porte chiuse di Buckingham Palace? Lascia un commento con le tue teorie e iscriviti ora! Le ombre che avvolgono la salute di Carlo III e il suo rapporto con il giornalismo moderno diventano sempre più dense, mentre Buckingham Palace mantiene un fronte unito, assicurando che il sovrano sta combattendo con coraggio la sua battaglia. I cittadini e i media rimangono in attesa, scrutando ogni movimento, ogni assenza, ogni segno che possa indicare una svolta. In un'epoca in cui l'accesso all'informazione è più libero e immediato che mai, la monarchia si trova a fare i conti con la crescente richiesta di trasparenza da parte del pubblico. La decisione di Carlo III di mantenere un certo grado di riservatezza sulla sua salute, pur comprensibile, solleva inevitabili interrogativi sulla dinamica tra diritto alla privacy e aspettative di apertura da parte di un'istituzione pubblica come la Corona. Questi interrogativi diventano ancora più pressanti quando si considera la possibilità che dettagli cruciali siano stati deliberatamente omessi o, peggio, distorti. La credibilità del piano di successione, così come l'autenticità delle fonti che ne parlano, diventano quindi il fulcro di un dibattito che va oltre la salute di un re, tocca le fondamenta stesse della fiducia tra la Corona e il suo popolo. In questo clima di incertezza e sospetto, una domanda rimane sospesa nell'aria. Se anche i membri più vicini alla famiglia reale, come Harry, sono tenuti all'oscuro dei veri piani, che speranza c'è per una comprensione chiara e onesta da parte del pubblico? La monarchia britannica, con la sua storia secolare e le sue tradizioni, si trova così di fronte a una sfida moderna, equilibrare il peso del dovere pubblico con il diritto all'intimità personale, in un mondo che guarda sempre più da vicino. In un mondo che guarda da vicino, il futuro della Corona è più incerto che mai. Restate con noi!